C'è una bottiglia chiusa con dentro la ventina, guarda! E qui siamo ubriaco! Dai brucia! Dai ostia! Io non voglio stare via a truccare, cazzo! No, no, va, si sta sciogliendo via da davanti! Ecco la salamella sopra! Non brucia! Aspetta, si deve cremare! Oh! Aspetta che io c'ho il cellulare! Sono davanti! Oh! Aspetta che io c'ho il cellulare! Oh! Aspetta che io c'ho il cellulare! Sono davanti! Cristian! Com'è? Tieni! Si è cattucciato! E basta! Non salta oh! Chi è che si è un'espulso? Che trovi? Guarda qui! Aspetta adesso! Si è aperto! Che cazzo fa! A prendere i pesci! Andiamo da mangiare ai pesci! No, 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 che muoiono! Muoiono, coglioni! No, che muoiono i pesci! No! 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 Forza c'è che le patatine! Ha ucciso i pesci! No! Ha ucciso i pesci! Che cazzo fa! Ha ucciso i pesci! Ha ucciso i pesci! Pi! Stana! Ma libere! No! No! No, che crepano! Ah! Io vai a ucciso i pesci quello! nooo salve lì davide salve